Grazie per la vostra sincera collaborazione con la nostra città. Grazie per la vostra ospitalità. E' un piacere vedere voi per questa occasione per noi molto importante dell'accensione dell'albero di Natale. Venire qui è stato il volere essere insieme a voi in un momento in cui l'Europa ha grandi difficoltà a confermare questo forte spirito europeo, questa nostra volontà di stare insieme e di affrontare le grandi questioni del nostro tempo insieme con i nostri amici. Grazie per la visione dell'Europa. Grazie per la visione dell'Europa. E' unico. E' unico. E' unico. E' unico. E' unico. che è unico. E' 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 unico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.